Sì, Bologna, Remiglia e Romagna, il vero perno del sistema europeo della ricerca sui big data e sulla intelligenza artificiale. Abbiamo avuto una grande capacità di organizzare, di riunire tutti coloro che studiano questo, le università, le imprese, i grandi centri di ricerca. Abbiamo portato qui a Bologna le due grandi macchine, anzi le più grandi, quelle dell'Agenzia per le Previsioni Meteorologiche Europea e dall'altra parte quella europea, una delle tre grandi, grandissime macchine europee per gestire i dati. Ma i dati per chi? I dati per tutte le persone, i dati per la mia vita, quella per avere una salute che sia fatta su di me, quella per gestire il grande traffico, quello per le previsioni meteo e quello anche per capire quando piove che cosa succederà nei nostri canali, quindi di fronte a casa nostra. Ecco, questo è un esempio, la scienza per le persone ed è questo che stiamo facendo oggi con questa fondazione, fondazione che si chiama Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo sviluppo umano. Cose complicate e complesse per un quotidiano più semplice e per tutti.